Sono Elisadora Valenza e interpreto Pillade, nell'opera andromaca di Leonardo Leo, diretta da Massimiliano Tisano con la regia di Amarili Nizza e Maria Medea Nizza. Pillade è il miglior amico di Oreste, l'amico che tutti noi vorremmo, che è sempre al suo fianco in ogni avventura. Come donna, interpretare un personaggio maschile è sempre molto divertente. Si può fare una ricerca dentro di noi, trovare la nostra mascolinità per poter così dare al meglio un personaggio eroico come Pillade. Lo spettacolo sarà nel Parco archeologico di Villa Claudia e sarà bellissimo per noi poterlo rappresentare in un luogo così prestigioso. Vi aspettiamo il 6 e il 7 agosto alle 21.